Piazza Vittorio arriva nei primi fondi per il restyling, il primo investimento di 375 mila euro dal bilancio ordinario del Campidoglio, in attesa di mettere in campo il grosso della cifra, 2 milioni e mezzo, che era stata inserita nei progetti finanziati dal governo per il giubileo. Investimento importante per Piazza Vittorio, 2 milioni e 875 mila euro, di cui 375 da parte di questa amministrazione per dare maggiore valore a questa piazza e 2 milioni e mezzo di fondi giubilari. Un restyling unico, dobbiamo puntare assolutamente su un piano di gestione perché una volta creata la piazza dobbiamo manutenerla al meglio.